Ciao, sono Michele. Oggi vedremo come effettuare un prelievo su SNAI, ricordando che solo iscrivendovi dal nostro sito potete ottenere 20 euro di bonus extra. Dalla pagina sport, clicca su il tuo conto. Sulla sinistra troverete prelievi classic, dove abbiamo prelievo con post e pay, prelievo con voucher e con bonifico bancario. Nel mio caso uso Paypal, quindi vado su prelievi new e lo troviamo qua. Digito l'importo da prelevare, che nel mio caso è 8 euro, clicco preleva, così riceverò direttamente nel mio conto Paypal l'importo vinto. Ciao, ci vediamo presto con nuovi tutorial sul mondo delle scommesse.